Si alza il sipario su Cartoceto d'Op, il festival, l'evento dedicato all'oro verde delle marche. Nelle prime due domeniche di novembre, un affascinante viaggio tra gusto e natura, arte, storia e grande musica. Con noi il 7 Chiara Civello e Rita Marco Tulli e il 14 Bungaro. Cartoceto d'Op, il festival, 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, vi dà appuntamento domenica 7 e 14 novembre.